benvenuti ragazzi e ragazzi sono The Master V e oggi siamo in un mio video per Fearstone che in cui parlo troppo poco e fare in cui appunto parlerò così nulla e sto registrando subito dopo ho capito di editare l'episodio della Rissa precedente appunto a questo che vi ha inviato spero che le netcore mi siano piaciute per chi non avessi capito cosa sono è uno stile musicale ma credo di avrò anche scritto in gigante vabbè detto queste cose appunto ho appena trovato una partita non andiamo ancora appunto che partite oggi come ho già detto ho appena trovato una partita partiamo subito oh mio dio eh si avete notato come una testa roba eh no venga devo chiedere di aprire il gioco che palle e volevo editarlo pochissimo madonna la versione meno legit è bugata pure per lo più comunque si vedete che sto caricando il video quello la in questo momento non so non so perchè mi si blocca ora in continuazione e qua va che ah perchè va ha già trovato la partita va bene facciamoci storie nec che sto facendo una domanda qua io sono fuso giro per le cartelle per di qua e per di là sono fuso oggi sono fuso guarda riusciamo ad entrare in una cazza di partita ecco ecco e sembra che si mette a mente dai oh mio dio cazzo cazzo contro aia preparate il mona chiama ok ci troviamo con queste tre carte in mano queste due questa cia teniamo per scuola 5 e siamo i primi ad iniziare io penso che abbia già velocizzato in questo momento ma se non l'ho fatto vi saluto ciao il tuo avversario si è ritirato serio oh no vabbè raga ehm una nuova cazzo c'è mi ha offerto da questa così si vedo alla gente ragazzo perché ha guidato no vabbè ecco voi ecco voi e daglie rara epica oh mio dio non pensavo che ci fosse un epica quando quando un tusso vitae viene attaccato avvocato il sed più ne uno ok e questo c'ho già ok 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 questo è su un buon card rega però cerchiamo di formare il suo serio che cazzo dai i tre partiti che volevo fare neanche una ne ho fatto e forse te trovo le mie partite ecco ho fatto che scatti così non piace ok ci torno ora c'è il nostro territorio preparate i golem ti do il benvenuto a meccanile ti do il benvenuto a meccanile spagniamo un po' di messagerando ma hagiunta questo il suo davvero brato non aspettate che cazzo succede ma what the fuck stanno quittando tutti perché perché sto quittando tutti ragazzi perché stanno quittando tutti cosa sono venuta a sapere che stavo registrando un video quindi si sono levati alle palle per farlo apposta perché che hanno questo che si vuole subito e lo si è quittano 5 persone il seguito giuro non so che fare l'artiglio di giara perfetto ed io fai così e questa armaccia teniamo gli archiviciata grazie a tutti bravo ragazzi, ragazzina bravo, forse è tutto terminale in pochissimi giorni ma non è come gli altri due che hanno acquittato, non sovite le sue baule a gente scusate con il showyale dovevo conto un attimo una cosa e guardanti baule cavolo e partite comunque alcune disse potevo ritornare in futuro questa cosa è un martizio perché non so se cosa vuol dire il martizio vuol dire che trai mi interessa contro lancio ora sei nel nostro territorio ehi 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 chi è quel gran bel tipo ahahahahah ne sei te stesso allora vediamo un po' 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Irresistible, irreversible, I can fight the temptation. Call it physical, it's illogical, still I love the sensation. Irresistible, irresponsible, irregardless of reason. Laps fed over me, I'm too blind to see. Irresistible, I can fight the temptation. Il cazzo è l'avversario. Infatti, cioè, è un'epica 1-1 che ha un effetto del cazzo, però non so perché mo' ci fa vedere. L'abbiamo presa in amicizia, non so perché. Comunque, adesso con tutte di questo è il cazzo di partita. Eh, è bravo. Ehi, è bravo. Ehi. 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 No, vabbè, caiglia, mi puoi spiegare che cazzo sta succedendo. Ehi. In amicizia. Ehi. Ehi. Ehi, caiglia, mi puoi spiegare che cazzo sta succedendo. Ehi, caiglia. Perché mi ha chiuso a Ayrston? Dai Che palle Avvicina la sedia al focolare Avvicina la sedia al focolare Mi aveva capito da un minuto perché no Sto scattando troppo Non riesco a capire perché Io capito Questa roba qua Perché? 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 Io ti orquesca Mi sento Ecco Altri due secondi roba Sei nel nostro territorio Il mano chiama Il mano Il mano Si Il mano Il mano Il mano Il mano Il mano Quattro percibire Quattro percibire Grazie a tutti 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 No, va comunque In un prossimo video ci vediamo Alla prossima